L'infrescite del collegio Buongiorno 1982, l'inizio di una nuova era Ma prende internet qua Non so cosa sia Non dobbiamo perdere questo slaggio No, no, ma non posso mettere Si deve mettere assolutamente Ma le insidie sono tante Oh mamma Per fortuna, il collegio rimane un porto sicuro signori Perché è fondato sulla disciplina Siete degli scostumati Siamo ragazzi di oggi Il collegio Da martedì 22 ottobre Rai 2